Ciao ragazzi, come state? Spero tutto bene, riechiamo di tornare in questo nuovo video per voi. Innanzitutto iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdermi neanche in un video. Come vedete non sono io che sto registrando ma c'è una mia compagna, una mia amica, anzi una mia cugina che sta registrando. E con voi voglio fare il mio room tour, quindi il mio giro della stanza dove vi farò vedere la mia stanza. Allora, incominciando da qua, questa era una cucinetta vecchia che ho riciclato, diciamo. E la uso come postazione per gli slime, infatti quando vedete che faccio degli slime, di solito sto sempre qua, che vedete che sono decorazioni, perline e glitter per esempio, per farvi vedere. Poi qua ci sono degli oggetti di famiglia, possiamo così dire. Questo qua magari l'avete già visto in un video ASMR che ho fatto. Poi qua ci sono nelle mie foto, nelle mie foto. Poi qua tengo altre cose per gli slime, per esempio shampoo, creme, balsami. Poi spostandoci, guardando verso il muro, c'è un video che ho pubblicato che era, parliamo insieme, più sorpresa e triggerosa, che era la mia tavola di arte. Poi qua da parte ho due calendari, uno che mi è stato regalato nella farmacia non è una banca, ma dettagli. Poi qua c'è uno dei miei tappeti che uso sempre per farli di sfondo, per i miei figli, infatti non so se l'avete mai visto, se non lo vedete guardate in altri video. Poi qua ci sono degli utensili, non so come definirli, ecco, per fare la ceretta, ecco, che li uso mia mamma perché lei è un estetista. Poi qua c'è la mia lavagnetta di sugordo, dove ottengo le cose più importanti per me. Qua ci sono delle date, dei numeri, dei luoghi. Poi qua ci sono questi di glitter che ho trovato decinesi. Poi qua ci sono tutti i miei slime che avete visto in un altro video, come potete vedere, le palette, le decorazioni e altri slime. Poi qua c'è uno dei miei pianetti di lavoro per appoggiare la fotocamera, appunto. Poi qua c'è il mio letto e quello lì è nel cotone normale. Poi qua sotto troviate il mio cellulite del lato, che praticamente sono delle stelle che si muoveva nel video. Adesso non vi lo posso farlo dietro perché non si vedrete. Poi qua ci sono tutti i miei peluscio, come vedete mi faccio un sacco, gli ultimi se li volete in un video. Quindi se vi fatevi sapere molto molto se volete un video, vi faccio vedere tutti i miei peluscio. Le farò anche questi miei peluscio. Poi qua ho dei vestiti vecchi da regalare, le vari. Poi là ho delle potete prendere, le peluscolate. E qua sono proprio quelle che non vedo qui. Poi, come vedete il mio ultimo armadio, se volete veramente gli altri, mi faccio sapere nei commenti e non so aprire lo speciale dei cittadini di questi. Qua tengo altre cose per le creazioni, come vedete i braccialetti, polla caldo, vari cavetti, fini. Qua sono tutti i miei giochi e i miei auricolari. E poi il tuo borsetto è in base dell'alata comprensione. Qua come vedete ci sono tutte le cose che ho per gli slime. Qua per esempio ho tutti i pigmenti e coloranti. Qua ci sono le colle, le decorazioni, i cestini, i pallini, le colle, il paletto, il contenitore, di tutto. Volevo immaginare quelli di slime inizio. E il nostro video di questo video, se volete vedere anche gli altri mani, la finisca per un strumento, raggiungendo i 40 like. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!